I tuoi fedeli vogliono una tua di telecronaca Mi fede... Mi carico Dio Sandra Cioè c'è un po' dei commenti tipo a me piaceva più di più episodi Adesso vogliamo la serie 1 Allora aspetta Che carino Non si capisce un emerito E ogni tanto va a scatti Ok il tuo l'abbiamo visto No poi sono tutte una sovrapposta Va bene basta abbiamo fatto Mo giusto perchè così Io ho tirato 17 Di nuovo Porta molto fortuna Vai Dietro devo coprire Luca che si fa le canne Vieni tu Vieni tu Ok Secondo me venivano meglio quelle portate Oh yeah Camera girl No li faccio con il via No 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 Ma cosa succede quei dei quali? Ma che è successo? C'ho avuto un'ideona Lo sai come lo devi fare il video? Con uno che riprende quel lato e uno che riprende st'altro lato Eh cazzo due telecamera E' cristiano E' che ci vuoi? E' che ci vuoi? Oh yeah Oh yeah No perchè così E' che vuoi si permette che hai in macchina? Se si accende la macchietta potremmo pure fare Tanto uno deve stare da un lato Uno deve stare dall'altro E poi monto io Certo che io monto io Che cos'è? Matrona Ti scegli un goblin da una mano? Cioè da l'altro rimuono Tu sei sicuro che vengono meglio così? Non lo so se vengono meglio così Cosa ti lascio fare? Cosa vede pure i prox in telecala Oh yeah Fantastico A volte Mi ragazzino non te ne va bene quantoni Probabilmente è la prima volta che li usavo Succedono delle cose troppo rapide Sì Poi ci pensa la santo con la tua voce maschile Sì Non muore? Come c'ha 3 No, 3, 3 Spero che si ha doppia santa No, 3, 3 Ho un video sempre Ma Vero C'è questo agio a qui c'è veloce No, allora sicuramente nella telecronica Non era riuscito a capire che cazzo era successo Allora si è inventato gli effetti Le pire, le cose Io vedevo già una partita Io me la ricordavo E vedevo quello di cielo E ho detto Ma che cazzo è successo? Prima della fase di attacco Lo pompo Sono 5 segnalini A volare Ah, quello era quello a volare Te riscordiamo un po' Sono 5 vai Poi, vai Posso andare? Titti Due, tre volte Siccome facevamo gli stonzi Ma facevamo le mosse E non ce ne andavamo conto Allora tiravamo indietro Allora vedevi tagli tale e quale, no? Ah, va bene Tu è un po' di stare 3, dito della fianda, sicuro Sì, ma poi vedi Poi vedi che ho delle carte diverse P2, più 2 Perché ci stava un fotografo Quindi è 2 e 2 Questa non prende il P1, più 1, no? Sì Giusto? Sì, non lo prendo Paro lui E vado a 18 Questa è diventata una 1-1 Ah, però c'è un fettore, vai Sandro, si pensa Vi poso rancore sopra Ok? Quindi Sono 3 dagli 3 segnalini Più 2 8 8 8 Questa me la riprendo in mano Perché questa torna a terra Ok, vai Siamo 8-20 8 segnalini veleno 20 punti vite Io sono 18 Sì Ho 18 Sì Ho vinto Magico Mi piglia male, vado Se mi rifini 18 danni Mi va proprio male Sì 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 Le foreste sono montagne in quel mazzo Sono montagne proxate Ricordiamo Su, fate qualcosa Non c'è niente interessante La riprende Metti goblin A 5 Metto 3 goblin 1 2 3 Sono 6 Sono 9 Sono 9 Sono 9 danni 9 danni Scusami Scusami Quella merda dava pure travolgere Sì Quella più due cose Ma a volare la mia Eh? Questa a volare Se ti stai tenendo a farla Ah, c'è a volare Eh niente Allora ho fatto una cazzata dall'inizio Vai Allora prendi tutto Vai Hai fatto 9 danni Quanto mi hai fatto? Vabbò Ti hai smizzato 9 1 10 Non c'è un pompino Prima di attaccare Ce l'hai? Ah, c'è quello No, eh Ah, chiuso Devo venire Chiuso Fatto E attacco Mara non lo posso Vendere online Se fai così Carino Ah, 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 ah